Ciao Dolci Unicorni! In questi giorni sono stati in giro per negozi e ho trovato dei nuovi pop-it veramente molto molto belli, molto interessanti Prima di iniziare mi raccomando se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni iscrivetevi subito al canale, attivate la campanellina e seguite su tutti i miei social Detto questo direi che possiamo iniziare subito! Iniziamo subito! Allora il primo che vi voglio mostrare è questo gelato! Ma che carino! Allora spacchettiamolo insieme Eccolo qui! Ma che carino! Ma che bello! Mi è piaciuto subito, appena l'ho visto l'ho subito preso per la sua forma di gelato Ora che l'estate sta finendo però il gelato è sempre buono, io lo mangio tutto l'anno ed è bellissimo Ok allora già dovrebbe essere anche posizionato anche correttamente e dobbiamo provare a sentire il suono Vediamo se già lo giro perché quando è messo così è ovviamente il rumore lo fa per nulla Vediamo È super rumoroso! Questo qui già mi piace tantissimo! Chissà chissà se farò qualche challenge con Andrea con i pop it Secondo me sì! Anche perché dovete sapere che lui è velocissimo a premere i pop it Invece sono leggermente un pochettino più lenta perché ho le dita cicciotte e non mi entrano bene all'interno dei pop Guardate questo non torna... Ah ecco ok! Stavo dicendo ma sta fermo sempre lì? Cioè no vabbè adoro Questo mi piace! Quindi questo qui a forma di gelato è promosso! Nonostante non sia proprio rigidone rigidone è molto molto bello! Ok quindi questo qui il promosso l'ho pagato se non erro 3 euro circa Andiamo avanti con un piede! Sì ho preso un piede! Come colorazioni devo dire che ho spesso trovato l'arcobaleno Quindi molti saranno con questa colorazione! Anche se finalmente ho trovato anche qualcosa di pastelloso! Comunque questo qui il piede è molto Molle rispetto anche al gelato! Quindi vediamo! Ha una forma molto particolare ragazzi! Mi fa anche ridere! Non so perché! Ok vediamo vediamo! Intanto lo giriamo tutto così! Così possiamo sentire se Sarà in grado di superare il gelato oppure no! Vediamo! Siete pronti? 3, 2, 1, via! Beh devo dire che il suono non è male! Però però magari è una mia impressione Suonava cioè il rumore era molto più forte sul gelato! Scrivetelo giù nei commenti! Intanto iniziamo fra il gelato e il piede! Quale vi piace di più? Scrivetelo giù nei commenti! Così già vedo anche i vostri gusti! Io fra i due preferisco al momento il gelato! È molto molto più rumoroso! Anche se come forma anche il piede non è male! Però al momento preferisco di gran lunga il gelato! Voi fatemelo sapere giù nei commenti! Poi non poteva mancare ovviamente un cuore! Un cuore arcobalenoso! Questo qui l'ho pagato anche questo qui 3 euro! Diciamo che questi di queste dimensioni costano su per giù sempre 3 euro! Ho preso il cuore perché lo sentivo già esternamente rigido! E io preferisco! Vedete infatti la differenza fra questo! E la differenza fra ad esempio anche il piede che è così! Quindi vediamo! Cuore non mi deludere! Devi fare tantissimo rumore! Quindi proviamo! E intanto lo mettiamo che corino! È bellissimo! Intanto lo giriamo tutto! Questo secondo me farà un ottimo rumore! Poi magari mi sbaglio eh! Tu devi stare giù! Ok! E tu! Eh ma! 3! Eh dai! 3! 2! 1! Via! E wow! E wow! Questo qui fa un rumore pazzesco! Quindi secondo me già il cuore è super mega iper promossissimo! Di questo sono veramente molto molto soddisfatta! Anche se lo vado un pochettino a screcciare così si sente già qualche rumorino! Bello! Questo qui mi piace! Questo qui è promossissimo! E mi sa che batte anche il gelato! Quindi scrivetemi giù nei commenti quale secondo me è più bello il gelato oppure il cuore! Per ora secondo me vince! Il cuore ha superato il gelato! Scrivetelo giù nei commenti! Poi ho preso questo qui che è abbastanza grande dal costo di 6 euro l'ho pagato! Ed è molto molto grande! Non fa parte della categoria giganti! Però però abbastanza grande! Ora questo qui è mamma mia mamma mia quanto è grande! Cioè mamma mia che bello pure come colorazioni! E' sempre tipo un arcobaleno ma un pochettino più pastelloso! Vediamo intanto questi qua! Provo a girarli un po' perché è gigantesco! Ma immaginate una challenge con Andrea e io che non riesco a girare questi! Cioè perderei sempre io praticamente! Vediamo! Ma non ci credo! Cioè ma fa un rumore pazzesco! Cioè no! Vabbè non me l'aspettavo! Perché è molto morbido! Cioè è morbidissimo! Però fa un rumore assurdo! Questo è bellissimo! Bellissimo! Devo dire che mi piace tanto quanto il nostro cuore! Quindi sono pari! Anche se questo è rigidone e questo è morbidone! Sono pari! Fatemi sapere giù nei commenti se vi è piaciuto il suono di questo! A me tantissimo! Andiamo avanti con il fiocco! Anche questo non è proprio gigante! Ma comunque è già bello grandifello! Questo fiocco è finalmente pastelloso! Guardate che carino! Guardate che carino questo fiocco! Questo mi piaceva tantissimo! La forma è wow! Bello bello bello! E poi sto notando che ha dei disegni proprio sul pop-it! Tante 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 coroncine! Non so se lo notate ma ci sono delle coroncine! Allora iniziamo a vedere questo pop-it! Giriamo! Vediamo se magari è già più rumoroso! Proviamo già con un primo lato! Wow! Anche questo qui è abbastanza rumoroso! Ma il centro era semi già bucato! Ma perché c'è questo forellino? No vabbè! Comunque può capitare! A volte li trovarli anche così! Ma non è un problema! Non è un problema! A meno che non siano già tagliuzzati! Allora lì il suono già non ci sarà più! Però questo qui un pochettino lo faceva! Anzi devo dire che nonostante sia così molliccio! Il suono lo fa! E' anche bello forte nella parte qua sotto! Quindi anche di questo sono molto molto soddisfatta! Anche se ancora al primo posto c'è sia questo sia il cuore! Ma ora arriviamo al pezzo forte! Perché finalmente guardate cosa ho qui! Ho trovato la testa dell'unicorno! E' gigantesco! Lo vorrei mettere anche dietro come sfondo! Ora vediamo! Questo l'ho pagato 13 euro! Questi costano molto di più! Apriamo! Mamma mia che bello! Mamma mia quanto è bello! Cioè io già lo lascerei così soltanto per metterlo tipo come soprammobile! Perché è stupendo in una cameretta, in uno studio, dove volete voi! Mamma mia che grande! E' bellissimo! Ma come faccio a fare conciugio? Dovrei avere mille tentacoli per farli contemporaneamente impossibile! Proviamo già a girarne alcuni La parte centrale Che morbido! E' morbidosissimo! Cioè è rilassante già fare così! Cioè io mi rilasso già così non so voi! Ok! Siete pronti a sentire l'unicorno? 3, 2, 1, via! No vabbè lo amo! No vabbè lo amo! L'unicorno è stupendo! È stupendo! Mamma mia quanto è grande! Cioè viene sempre ripeto di toccarlo, di schiacciare, poi girare, poi rischiacciare! È bellissimo! È gigantesco! E lo adoro! Questi pop-it che ho preso in questo video, o il pop-it, secondo me sono veramente troppo belli! Non ho avuto delle grandi delusioni se non solo magari questo piccolo piedino Forse perché è troppo molliccio e non rende il suono Però secondo me sono andata molto molto fortunata Fatemi sapere giù nei commenti quali di questi pop-it vi è piaciuto di più I miei preferiti sono l'unicorno, il cuore, il gelato, questo qui e poi infine questo e questo! Ni ni ni! Scrivetemi giù nei commenti quale fra questi vi è piaciuto di più Anche per il suono! Io vi mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso, mi voglio bene E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao dolci unicorni! Ciao, ciao, vi vado a giocare col mio unicorno! Ciao!